Mio... Sei partita? Vai! Oh mio Dio! Maria Unlato! Da... La cosa più dolce si dice in inglese La cosa più dolce dovete guardarlo Dovete guardare quel film Noi due lo sappiamo a memoria Prima ripetamolo per tutte E non possiamo E manca... Stuky Stuky Allora ragazzi sono qui con Maria che questa sera è ritornata a trovarci A rompere le scatole Assolutamente no credimi Una delle voci più belle del Padova Pride Village Veramente con il cuore in mano Questa sera nel palco esterno Tra qualche minuto Il cuore in mano lo dovranno dire fuori tutti Esattamente Ragazzi io sono emozionato Veramente perchè è un'artista Possiamo dire un'artista Con le controtente E vada che roba Eh no ragazzi è il push up Ah il push up? Sono verissime incredibili Assolutamente Allora vi aspettiamo qui Con Maria che comunque ritornrà a trovarci Il 21 Il 21 di agosto se non sbaglio Allora lì c'è il super spettacolo E vi aspettiamo anche gli numerosi Esattamente Ci sono le drag queen Ci sono le drag queen Tutti ci chiedono La jumpy e Nana Vengono qui al village per vedere le drag queen Ci sono C'è appunto la jumpy e la nana La nana è quella che l'anno scorso Ha avuto quel piccolo inconveniente Nel imprevisto Nel palco Che ha fatto in bus E che ha scappato a terra Comunque Ragazzi io vi mando Un bacio enorme La festa è hawaiana? No ma questa è la mia porta fortuna Ah ok Chissà che porti fortuna un po' anche a me Ma tu sei già fortunata Un bacio Ciao Suki Ciao Suki Suki